È stata presentata in una conferenza stampa convocata presso la Casa Circondariale di Lucera l'iniziativa che prevede il coinvolgimento dei detenuti proprio della Casa Circondariale di Lucera in un vero e proprio corso di avviamento alla pratica della pallavolo realizzato con la conduzione della Federazione Italiana Pallavolo e i suoi tecnici del Comitato Provinciale di Foggia. All'incontro di presentazione dell'iniziativa sono intervenuti il direttore della struttura penitenziaria Davide Di Florio il consigliere regionale FIPAV Luigi Latorre e il presidente del CP FIPAV Foggia Elminio Pat. Il progetto è stato suddiviso in una sezione teorica affidata a due arbitri esperti incaricati di illustrare le regole di gioco e di comportamento e un'altra pratica affidata a due allenatori che organizzeranno lezioni di tattica di squadra e tecnica individuale. L'obiettivo finale è l'allestimento di una formazione che si possa confrontare con altre della provincia di Foggia. Vediamo le immagini registrate da Gino Romice in occasione della conferenza stampa e ascoltiamo le interviste da lui raccolte. Il progetto è nato soprattutto da un'idea come staff del mio staff, del mio comitato provinciale parlando sia con la commissione arbitri ma anche con lo staff tecnico degli allenatori. Abbiamo portato progetti sia negli oratori che nelle scuole, abbiamo iniziative e attività didattiche soprattutto in ambienti in cui effettivamente tutto ci era abbastanza favorevole. E allora ci siamo posti questa domanda, perché non presentare anche il volley, la pallavolo sul nostro territorio a chi effettivamente ha bisogno in determinate ore della giornata di poter svolgere anche un'altra attività ludica in questo caso ma soprattutto un'attività che ci porti a rispettare delle regole con lo sport. Ecco per questo il nostro progetto, il volley che presenta in questa casa di Lucera chiamiamola casa, è vero direttore, che presenta una nuova realtà, un nuovo movimento abbiamo coinvolto più di 15 detenuti che hanno accettato in pieno la nostra iniziativa hanno accettato in pieno il rispetto del regolamento, un regolamento ad hoc che è stato presentato su una realtà di gente ma soprattutto di ragazzi che hanno la fame in questo caso di sport vogliono anche, oltre al calcio solito che viene praticato in tutti gli ambienti anche in questo caso vogliono anche conoscere la pallavolo. I primi approcci, i primi incontri ci hanno portato a una realtà e a delle risposte concrete risposte concrete che adesso andremo praticamente a realizzare nel cortile del carcere con gli stessi detenuti che dopo aver iniziato a conoscere, quindi nella seconda fase dopo aver conosciuto il regolamento, le regole di gioco, inizieranno a far pratica di gioco a voler essere coinvolti e quindi ad accettare pienamente di rispettare il campo i fondamentali, a imparare anche a saper organizzare un evento che potrebbe essere la gara in sé per sé della pallavolo. Questo il tutto nascerà con l'inizio dell'anno nuovo. Cercheremo di portare una realtà su di un campo che andremo a strutturare nel cortile, cercheremo di portare una realtà con dei tecnici, allenatori in questo caso, che porteranno la tecnica, il fondamentale, come gesto di gioco e come ampiezza di divertimento per i detenuti e poi chiaramente a prodotto finale cercheremo di raggiungere un obiettivo con un piccolo torneo fra i detenuti stessi. Per me è stata una fortuna conoscere ed avviare un incontro con il professore Pat, che è il responsabile provinciale della FIPAV. Il carcere di Lucera è un'agenzia del territorio? Purtroppo le poche agenzie che sono rimaste a Lucera, c'è ancora il carcere per fortuna. E quindi il carcere non poteva non sottrarsi all'idea, all'iniziativa elaborata dal professore Pat e dai suoi collaboratori, sia a livello provinciale che anche addirittura con il coinvolgimento regionale del consigliere regionale della FIPAV. E dico, non potevamo lasciarci sfuggire questa grande opportunità e occasione. Perché? Perché per i detenuti è un'offerta, se vogliamo, trattamentale, se vogliamo, pedagogica. Perché persone che non hanno conosciuto o che hanno violato delle regole, che non conoscono quella che è la convivenza civile regolata da norme e regolamenti, e ogni opportunità non deve essere persa, non deve sfuggire, perché consente, se non altro, di poter un domani, scondata la pena, reinserirsi nel proprio contesto sociale, sapendo bene come muoversi e come parlare, interagire con gli altri.